Ehi Luce, perché ti sei spenta tu? Chi ti ha detto di spegnerti? Chi ti ha detto di spe... Vediamo se ho fatto danni alla fotocamera Sì, ci siamo! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Q&A Tech Day, buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana Ci sono più di 5 domande oggi perché ne ho selezionate alcune che erano... Era difficile scegliere tra le migliori 5 e quindi ne ho preso di più, molto semplice Bene, andiamo a vederle No, non mi sono drogato, se ve lo state chiedendo Diego Pedata Q&A, secondo te Nintendo potrà mai realizzare smartphone? Direi proprio di no perché diciamo che Nintendo nell'ultimo periodo era già un po' inguagliata in ambito console Quindi ora con Pokémon GO, con un po' di altri giochi, magari per loro anche con Nintendo Switch Si risolleveranno un po', ma di sicuro non vanno ad aggredire un mercato dove comunque non potrebbero dire chissà cosa Ecco, ci sono dei brand ogni tanto che si affacciano nel mercato degli smartphone Magari perché pensano di poter creare soluzioni integrate tra lo smartphone XY E che ne so, fanno anche router e il router XY Oppure fanno la caffettiera XY E quindi dicono, vabbè ma con questo smartphone nostro controlla al meglio la tua caffettiera E' chiaro che poi, essendo uno smartphone Android, qualsiasi smartphone Android la controlla allo stesso modo La caffettiera Quindi ogni tanto c'è qualcuno che prova a far questo Ad esempio Panasonic ha lanciato degli smartphone, come sapete Ma ovviamente sono smartphone con cui non mirano a conquistare chissà quale fetta del mercato Ma magari a fare brand, a diffondere il loro marchio Insomma, potrebbe far questo il Nintendo Ma credo che non lo farà perché non ci vedo grossi interessi da parte loro Ad entrare in un mercato già abbondantemente saturo Giuseppe Caputo Ciao Andrea, quali sono gli effettivi vantaggi del root? Grazie in anticipo Allora guarda, io non sono ferratissimo in ambito root Però l'avevo fatto tanti anni fa Parliamo di Android Forse neanche Android 4 Parliamo di Android 3 Su un vecchissimo LG E lì per lì lo fece basta Senza grosse modifiche Diciamo che ora mi sono riavvicinato al root L'ho fatto su alcuni dispositivi che ho testato E effettivamente non ci ho visto ancora molto Perché probabilmente non sono io appunto più di tanto informato in materia Ma comunque cosa consente di fare il root? Consente di installare ad esempio alcune applicazioni Che altrimenti non potresti installare sul tuo dispositivo Android Che ti consentono di monitorare determinati aspetti dello smartphone Che altrimenti non potresti monitorare Di modificare determinate cose Ad esempio Exposed Credo si legga così Exposed è una libreria Ora non fatemi dire cavolate Però più o meno sì È una libreria su cui si basano tanti programmi Tanti progetti che consentono di modificare alcuni aspetti fondamentali Dello smartphone Questo senza root non si può usare È uno dei pacchetti più scaricati da chi esegue il root Ma ce ne sono tanti altri Ne ho installati anch'io parecchi Solo che poi non ho approfondito la cosa Ho installato un sacco di pacchetti di estensioni per Exposed Ma non ho approfondito appunto Comunque il root è più o meno il jailbreak su iPhone La differenza è che su Android abbiamo già una libertà di partenza maggiore Con il root otteniamo una libertà quasi totale Su iPhone la libertà iniziale è molto ristretta Anche col jailbreak non arriva ai livelli del root È più o meno quello Quindi comunque il significato di base è sbloccare il dispositivo Per fare modifiche che altrimenti non potresti fare RIS96 Ciao Andrea che ne pensi dei progetti sulle batterie di nuova generazione In grado di ricaricarsi in pochi secondi Credi sia realizzabile un'idea simile Io sono sempre dell'idea che questi progetti Prima o poi verranno a concretizzarsi Così come una volta sembrava impossibile realizzare l'auto che si guidava da sola Oggi non è più impossibile Oggi siamo abituati Certo credo nessuno di noi ne ha vista una per strada Muoversi Ma probabilmente tra qualche anno Quando vedremo le prime auto autoguidate Diremo Ah ecco quella è un'auto guidata Ma non ci sembra una cosa fuori dal comune Quindi credo che un discorso del genere sulle batterie sia assolutamente fattibile Però al tempo stesso credo che non ci siano oggi le tecnologie Per portare queste batterie che si ricaricano così in fretta sugli smartphone Senza incorrere nei rischi Che senza arrivare a batterie che si ricaricano in pochi secondi Ad esempio Samsung ha corso E infatti le è andata male con Note 7 Rex 2.28 Ciao Andrea se potessi ricomprare la tua AK Racing lo faresti oppure no? Allora lo farei sì 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 lo farei assolutamente Anche di quel colore perché mi piace e si intona bene con la mia camera Ma una cosa che non mi è piaciuta alla lunga sono i poggiagomiti Perché si sono un po' rovinati con Vabbè io sto spesso seduto e spesso con i gomiti appoggiati lì appunto E la gommina non è di qualità eccellente Alla lunga si è rovinata però poco male si possono cambiare Però per il resto sedia impressionante Ancora ha resistito benissimo Non ha segni di deterioramento dopo Quasi due anni La ricomprerei assolutamente Eduardo Urso Ciao Andrea non hanno mai pensato di fare i frame in fibre di carbonio sugli smartphone Potrebbero ridurre il peso e aumentare la robustezza Sì è un materiale che non è stato mai usato credo effettivamente Qualche dubbio mi viene soltanto poi Cioè sulla resistenza sì ok il peso è anche ridotto Però sulla compatibilità magari con ciò che c'è dentro lo smartphone Su valutazioni fatte ad esempio sulla resistenza al calore di questo materiale Se l'hanno scartato credo che un motivo ci sia sinceramente Se hanno preferito altre soluzioni come l'alluminio magari anche realizzare uno smartphone in fibre di carbonio Non è facile non so quanto sia malleabile questo materiale Quanto sia possibile creare delle cose piccole come uno smartphone Alla fine non un'automobile o altre cose più grandi Quindi se non l'hanno ancora fatto secondo me è un'opzione che hanno anche valutato magari O se non l'hanno valutata potresti aver dato una buona idea a qualcuno Pietro Lombardi Ciao Andrea si un grande quali sono le tue prime impressioni di Huawei P10 Credi che sarà un Best Buy secondo te può riconfermare la bella reputazione che si è fatta con il P9 E poi domanda collegata a questa Domenico De Marco Ciao Andrea tra le prime immagini e caratteristiche tecniche Quale smartphone tra Huawei P10 e la GG6 e Samsung Galaxy S8 ti ha colpito di più fino ad ora? Allora partiamo prima dal P10 in sé per sé E rispondiamo anche quindi il lato P10 alla seconda domanda P10 io voglio vederlo dal vivo ovviamente Però non mi sembra brutto a livello tecnico mi sembra eccellente La MIUI ora La MIUI di Huawei è bellissima L'ho provata sul Mate 9 La nuova MIUI 5 è ancora più bella Quindi diciamo che ho ottime aspettative sui P10 Però una cosa non mi è piaciuta Che Huawei ha abbandonato il sensore sul retro Non tanto per il sensore in sé Quanto per il fatto che ora c'è un tasto home anteriore con il sensore lì A me il sensore dietro piaceva un sacco Perché soprattutto con gli ultimi smartphone che ho provato Come appunto il Mate 9 Il fatto che sia qui per le gesture è comodissimo Un domani un telefono così grande Dover fare le gesture qua sotto Lo vedo meno comodo A me il sensore dietro piace un sacco Ragazzi io lo vorrei su tutti gli smartphone qua dietro Quindi questa cosa non mi è piaciuta E invece collegandoci alla seconda domanda Apprezzo il fatto che Samsung abbia spostato il sensore sul retro Così come apprezzo il fatto che LG sul G6 lo mantenga sul retro Secondo me il sensore posteriore ci sarà prima o poi su tutti gli smartphone Perché appunto dovranno tagliare le cornici Infatti mi sorprende il fatto che Sta vibrando il Mate 9 Mi sorprende il fatto Che Huawei non abbia Non sia andata in questa direzione Oh basta Che cosa mi vuoi dire? Voi non lo sentite ma c'è anche un gatto in calore che mi agola Va bene signori io dovrei finire questo Q&A Dicevo P10 Il fatto che abbia questo cornicione sotto Che appunto non è molto diverso Non sarà molto diverso da quello di Mate 9 Che non è cornicione Dai sono cornici ridotte Però ci sarà Mentre molti altri produttori andranno proprio a rendere a filo quasi La scocca dei dispositivi rendendoli più comodi in mano Senza rinunciare ad una grossa dimensione del display Quindi non vorrei soltanto che questo P10 fosse un po' anacronistico Rispetto agli altri due Però è un dubbio veramente relativo Per S8 e G6 Devo dire forse mi piace di più S8 Anche se G6 non è male dalle immagini che si sono viste A livello tecnico ragazzi saranno telefoni che andranno tutti allo stesso modo Cioè non andiamo a fare classifiche S8 va a 100 G5 va a 95 P10 va a 97 No, andranno tutti bene Andranno bene Basta Non serve specificare chi sia il più veloce Chi sia il più lento di una frazione di seconda Andranno tutti bene Tutti alla pari Quindi Sarà una scelta poi anche di ecosistema Di personalizzazione Devo dire A me la TouchWiz L'interfaccia in generale di Samsung Storicamente non mi è mai piaciuta Non è una delle mie preferite E' cresciuta molto la MIUI Ancora la MIUI La MIUI di Huawei E prende ancora sto dannato Mate 9 Che ha smesso di vibrare Questa MIUI 5 Mi è piaciuto un sacco Perché finalmente hanno avuto il coraggio in Huawei Di andare a realizzare un sistema un po' più loro Un po' meno ispirato proprio ad iOS di Apple E l'interfaccia di LG invece è una di quelle che apprezzo di più Quindi sono curiosissimo di vedere se ci saranno novità sul G6 Ragazzi Saranno tre ottimi telefoni Io sinceramente non so per quale propendere Avrò la fortuna di provarne E di vederne subito due Cioè G6 E P10 Tra meno di un mese Tra quasi due settimane E quindi E quindi Non vedo l'ora Per S8 Se Samsung sarà benevola Mi inviterà anche lì E quindi vedrò anche lui Lo proverò Vi dirò a brevissimo Per il momento Dico che sono tre dispositivi Molto interessanti Forse a livello estetico Mi piace di più S8 Ecco ve l'ho data la risposta Bene ragazzi Ora Lasciamo che il gatto in calore Vada a fare quello che sta cercando di fare Da diversi minuti Mate 9 ha smesso di vibrare Direi che possiamo chiudere qui il video Ma No no Non chiudetelo Dai Ci sono quei brutti pulsanti Ve l'ho già detto in un altro video Con quei colori brutti Così grigi C'è un bel colore nel mondo Che è il blu È il colore del cielo È il colore dell'acqua Ed è il colore anche del tasto like Se lo schiacciate in questo momento Quindi fatemi un favore E fatemi un favore Perché così Se vi piacciono questi video Se voi ci aiutate con i like Con le condivisioni Con i commenti Noi continuiamo a farne Altrimenti Altrimenti finisce tutto Lasciate un bel like Noi ci risentiamo Al prossimo video ragazzi Ciao a tutti Da Andrea Cervone Per Tech E Iscrivetevi al canale Sì Dovete farlo Per forza Se no Se no Se no Non posso ricattarvi Se no vi dico un segreto assurdo Ah tu non vuoi lasciare like Ora ti dico il segreto assurdo Che non Ma che Che Stai dicendo Andrea Va bene Era uno scherzo Vi ho solo dato tempo Per lasciare un like Spero che l'abbiate fatto Nel frattempo Questo gatto continua Proprio a lamentarsi In un modo assurdo Ora Ora Vado a vedere dai Vado a vedere cosa vuole Voi lasciate un like Ciao Ciao Grazie.